L'anno che verrà preannuncia scenari poco edificanti per l'ente comunale giarrese. Sotto il profilo organizzativo e gestionale si profilano infatti difficoltà pesanti per l'amministrazione comunale. Dopo 30 anni alla guida dell'area tecnica del comune ha infatti lasciato ufficialmente il palazzo di via Principessa Yolanda l'architetto Nuccio Russo che ha accettato nei giorni scorsi lo stesso incarico nel comune di Alcamo in provincia di Trapani già a partire dal primo dicembre. La scelta di Russo è stata dettata dalla necessità di rivitalizzare in primis la propria carriera dirigenziale dopo le cocenti delusioni maturate al comune di Giarre. Una situazione è divenuta irreversibile dopo gli evidenti attriti con l'amministrazione comunale che già dal gennaio scorso ha confermato la sua estromissione dalla carica dirigenziale a causa di un procedimento giudiziario in altro comune nonostante il parere dell'ANAC che aveva ribadito l'insussistenza di cause che potessero giustificare l'inconferibilità dell'incarico. Russo è stato anche il promotore di due esposti alla procura di Catania uno dei quali riguardante presunte anomalie nella gara d'appalto del micro asilo comunale di Macchia. Vicenda giudiziaria è poi sfociata nell'avvio di una indagine condotta dalla Guardia di Finanza su delega della procura di Catania e che rischia di provocare un altro terremoto all'interno del sistema dirigenziale dell'ente comunale poiché mercoledì prossimo è programmata l'udienza in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio a carico della dirigente tecnica Pina Leonardi dei componenti della commissione che ha giudicato i lavori del micro asilo e del legale rappresentante tutti accusati di turbativa d'asta e falso ideologico in concorso. L'uscita di Russo è comunque destinata a provocare ancora altri effetti devastanti per questo il sindaco Angelo Danna nei giorni scorsi ha tentato l'impossibile con l'obiettivo di trovare un'intesa con il professionista cedendo alla fine le armi e firmando la delibera con la quale ha autorizzato l'architetto russo al trasferimento definitivo al comune di Alcamo. Poi c'è la tegola giudiziaria che interessa un altro dirigente in questo caso il comandante della polizia locale Maurizio Cannavò chiamato in causa in un procedimento giudiziario avviato nei giorni scorsi dalla procura di Catania a carico dell'ex giunta Sodano per fatti che risalgono al 2012 per tramite dei carabinieri infatti si è proceduto alla prevista elezione del domicilio dei componenti dell'esecutivo in relazione ad una delibera del 23 novembre del 2012 con la quale è stato autorizzato il dirigente comunale Cannavò a procedere all'affidamento ad una ditta esterna del servizio in emergenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza secondo quando si apprende da fonti giudiziarie ben informate sarebbe imminente anche la notifica dei relativi avvisi di conclusione indagini a questo punto l'amministrazione comunale potrebbe ritrovarsi di fronte ad una complessa situazione consapevole delle molteplici defezioni compresa quella più importante ovvero l'assenza ormai cristallizzata del dirigente finanziario grazie a tutti grazie a tutti